Il Comune di Battipaglia ha votato in giunta la risoluzione immediata della Convenzione del 15 aprile 2016, sottoscritta con la società cooperativa Donnuva di Potenza riguardante la concessione della gestione del servizio di casa-albergo per 29 anziani e la gestione del centro polifunzionale presso la sede di Villa Maria in via Etruria 10, per una serie di inadiembienze che si evingono dalla delibera numero 78 del 21 marzo 2023. A monte della decisione un rapporto tra l'ente e la cooperativa Donnuva mai decollato, partendo dall'assegnazione della gara per cui la cooperativa Donnuva dovette rivolgersi per ben due volte al Tarra per vedersi assegnata la gara. In particolare, però, ci si chiede quali tentativi siano stati esperiti per trovare una soluzione al problema, dal momento che, a detta di tutti, il servizio offerto agli anziani dalla cooperativa Donnuva è stato soddisfacente in tutti i sensi, con le testimonianze degli stessi ospiti e dei familiari su un'assistenza di prim'ordine diurna e notturna. Perché non si è voluto trovare un accordo? Il problema ora diventa di ordine sociale, sia per gli ospiti anziani, sia per le unità di lavoro impiegati nella casa albergo. Ricordiamo inoltre che la cooperativa Donnuva di Potenza, per partire con il servizio, ha dovuto caricarsi di ben 480 mila euro di lavori per mettere in condizione la struttura secondo tutte le normative vigenti. Ci si chiede inoltre perché di un problema così importante non sia stato investito il Consiglio Comunale?